Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma entrata chiusa per lavori a Firenze Sud fino alle 24 di domenica 12 marzo. Spostandoci sulla FIPILI ci sono ancora rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze in via di Coverciano fino a domani divieto di transito nella carreggiata a lato numeri civici dispari nel tratto tra Viale Verga e Via Manni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!